musica musica ecco che è arrivato al punto del mito che è condensivo che cosa vuol dire tutte le band ho visto che già qualcuno lo sa tutte le band è la mancia della band a chiunque piace a voi questo spettacolo chiunque piace il blues, questa bellissima atmosfera qui a Lenku per il mio piacere bello spiante per voi noi siamo contenti di mettere una bella tip la vabbè di qualsiasi cosa abbiamo ricevuto di tutto lì salami della pasta della pasta a sugo la macchinetta benissimo grazie questo pezzo si chiama tip the best tip si vanno bene tip si contatti benissimo tip marco tip 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.